cari amici siamo a tulum siamo in messico siamo in un centro di cultura popolare romanista qui c'è alessio vediamo bene con noi abbiamo lo staff abbiamo il piccolo totti e come vedete l'ambiente è caldo è pronto siamo prontissimi e adesso aspettiamo questo derby meraviglioso che sarà sicuramente un derby di pace e che vinca il migliore speriamo ognuno spera a noi bravo ognuno spera a noi ciao ciao ci vediamo